Carissimo Marco, è quasi un anno che non ci vediamo. Camillo era un ragazzaccio simpatico e con molta voglia di divertirsi e quando finalmente si è, come avrebbe detto la mamma, sistemato, è lì c'è un mistero, caro. Sai, poi ti dici se me l'avesse detto, se me l'avesse detto, che cosa gli succedeva. È stata una cosa, chi se l'aspettava? E chi se l'aspettava? C'è una lettera di Camillo, scusa, questa lettera a me, a te. E tu gli hai risposto? 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 E tu gli hai risposto?